buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 9 ottobre 2023 vediamo subito quello che dicono i giornali passando prima dall'almanacco del giorno per vedere che si festeggia oggi oggi auguriamo un buon compleanno anzi un buon onomastico a tutti coloro che si chiamano dionigi perché si festeggia san dionigi e compagni dionigi era vescovo di parigi predicò il vangelo in tutte le gaglie e fu arrestato dai pagani e quindi martirizzato con il taglio della testa questo è san dionigi un santo particolarmente venerato ovviamente in francia vediamo le previsioni del tempo ancora ancora bel tempo su tutte le marche continua a questa a questo prolungarsi delle temperature estive che si aggireranno tra i 16 e i 27 gradi 27 la massima che si raggiungerà verso le 14 di oggi sulle marche dunque un'ennesima giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con temperature notevolmente superiori alla media i venti sulle coste espireranno con una tensione debole da est sud est mentre nell'interno da nord ovest il mare è leggermente mosso questo è un po' il quadro della situazione del tempo quindi godiamoci ancora una bella giornata di stampo estivo ma con una leggera brezza autunnale questa un po' è la situazione del tempo oggi e allora diamo un'occhiata ai giornali partire dal resto del carlino oggi vediamo subito la pagina che riassume un po' tutte le notizie delle province marchigiane dato che lunedì il carlino esce con un'edizione leggermente ridotta rispetto ai giorni scorsi e vediamo il sunto delle notizie della provincia di pesaro e qui vediamo una bella foto di pavarotti nel momento in cui era pesaro e esprimeva tutta la sua esuberanza da villa di pavarotti a chiese e stazioni ecco i gioielli del fai sì perché il prossimo weekend sarà caratterizzato dalle giornate del fai di autunno in cui si potranno visitare dei posti veramente belli e non sempre accessibili al pubblico guida ai siti che potranno essere visitati nel prossimo weekend rappresentano il meglio del patrimonio culturale regionale e tra questi c'è anche la villa di pavarotti sul colle di san bartolo altre notizie che riguardano la nostra provincia c'è un lutto un lutto che si è verificato a pesaro la città dall'addio a terenzi il decano dei pesci vendoli oggi si celebreranno i funerali nella chiesa di soria e poi a fano invece si parla di elezioni si parla di politica abbiamo una intervista realizzata giuseppe de leo alla sfida così voglio rilanciare fano così ha dichiarato il candidato il candidato si confronta sia con stefano aguzzi che è un altro candidato del centro-destra mentre ovviamente la lotta quella quella dura quella insomma decisiva è ovviamente contro il centro-sinistra vediamo le altre notizie ancona folla alla notte bianca eravamo in 35.000 una bella manifestazione che ha radunato tantissime persone nella città d'Orica soddisfatto il sindaco la città così torna protagonista ha detto guardate quante persone c'erano in questa manifestazione vediamo qui piazza Cavour gremita veramente di gente tutto esaurito in locali e ristoranti in programma ci saranno poi altri eventi e poi in via Marconi invece c'è una notizia di cronaca chiamano la polizia ma aggrediscono gli agenti e c'è un arresto provinciale del Conaro si scontrano auto e scooter giovane scappa e finisce nei guai anche qui dunque abbiamo una notizia di cronaca ad Ascoli e a Fermo le due province vediamo a San Benedetto 20 auto rimosse per il triathlon multati diversi turisti in divieto di sosta mentre per quanto riguarda la sanità abbiamo che l'azienda sanitaria territoriale avvia la procedura per stabilire i precari è un provvedimento questo atteso da tantissimo tempo e poi l'ANMIL l'associazione nazionale mutilati del lavoro che ha celebrato la giornata nazionale di questo problema quello degli incidenti soprattutto quello dei morti sul lavoro che desta una grande attenzione ancora troppi i morti sul lavoro questo l'appello che lancia l'associazione e poi abbiamo una storia una storia che nasce da un fatto di cronaca di cui parlano ovviamente oggi tutti i giornali nazionali e in prima pagina è quella del nuovo conflitto israeliano palestinese che appunto si è verificato nei pressi della striscia di Gaza dove una marea di terroristi ha assalito dei civili israeliani così siamo scappati dalla guerra in Israele un miracolo vedremo poi questa notizia sviluppata all'interno le notizie di macerate invece il bar Campo dei Pini riapre grazie all'ANFAS e coinvolti i disabili mentre a Porto Recanati scattano le ricerche per i dispersi in mare ma è un falso allarme a Civitanova c'è una notte di controlli ubriachi alla guida tante patenti ritirate e vediamo qui le notizie che appunto che riguardano macerata ed ora apriamo il giornale rimaniamo nella pagina di Pesaro e vediamo Marcello Terenzi il pescivendolo che è deceduto con il cordoglio dobbiamo dire di tutta la città non solo persone che sono all'evidenza magari della cronaca politica oppure della cultura, dell'arte ma sono anche gli operatori quelli che sono tutti i giorni a contatto con il pubblico con le massaie, con gli uomini un pescivendolo non c'è mestiere più onerò, più diciamo così degno di attenzione di questo quello che vende il pesce è un mestiere che costituisce il mezzo di un rapporto molto stretto con le persone perché poi si parla di tante cose mentre si è in un negozio di pescheria addio a Terenzi il pescivendolo storico dalla carretta al banco di via Giolitti negli anni 60 partiva dal mare e arrivava fino a Santa Maria delle Fabrecce per vendere il pesce ha rifornito i ristoranti più noti da Gibas alla Baita gli bastava una stretta di mano per capirsi la di oggi alle 15.30 nella chiesa di Soria e lo vediamo qui nella foto con due grossi pesci in mano e poi un intervento dei vigili del fuoco lo vediamo qui a fondopagina fuma e fiamme in un locale seminterrato dell'hotel Nautilus visibilità scarsa ha reso più difficile l'intervento dei soccorritori i pompieri hanno trovato difficoltà a localizzare il luogo della origine per fortuna non si è verificato nessun ferito il fatto è avvenuto ieri mattina alle 7 tre squadre di pompieri sono partiti subito dalla caserma di Pesaro per raggiungere l'hotel costruito di recente quasi tutto in legno quindi in una materia molto molto infiammabile l'hotel è situato nella zona di Levante di Viale Trieste ebbene ci è lavorato tanto si è lavorato tanto per cercare di spegnere le fiamme di rimettere in sicurezza il locale la bonifica è stata ultimata intorno alle 12.30 dalle 7 del mattino ed ora vediamo anche le celebrazioni per Don Gaudiano è intervenuto il cardinale Zuppi che qui presidente della CEA che qui lo vediamo a fianco del professor Ivano Dionigi ieri al teatro Rossini il cardinale presente alle celebrazioni dei 30 anni dalla morte di Don Gaudiano se ti scopro fratello ritrovo me stesso un po' il senso del suo intervento fatto con l'appello di non essere mai spettatori di non stare solo a guardare ma di intervenire di essere protagonisti di una azione se sono le parole a innesquare le guerre perché sempre con le parole non riusciamo a farle smettere ha replicato Ivano Dionigi quindi un incontro denso di parole di valore etico e di valore morale ed ora vediamo la pagina dedicata a Fano con un'intervista che Maurizio Gennari fa a Giuseppe De Leo De Leo senza freni intitola appunto il quotidiano piaccio pure ai comunisti ha incontrato anche due persone della fascia opposta insomma ha detto io ti vedrei bene come sindaco hanno detto questi ultimi Aguzzi ebbene io vado avanti dobbiamo dire che Giuseppe De Leo e Stefano Aguzzi sono due grandi amici il sindaco Aguzzi quando svolgeva appunto il ruolo di sindaco lo aveva posto come direttore generale del comune di Fano e avevano collaborato molto molto insieme e sono rimasti amici ora si trovano per ironia della sorte su fronti dello stesso schieramento però insomma sono antagonisti perché sia Stefano Aguzzi che Giuseppe De Leo sono candidati sindaco e vediamo e vediamo qualche risposta che ha dato Giuseppe De Leo al giornalista intervistatore allora e con i partiti della coalizione come la mette? abbiamo avuto delle interlocazioni ha detto De Leo e sono stato anche chiaro io in giunta metterò solo gente competente perché guidare una città di 60.000 abitanti non è come andare con una bocciofila con me non esisteranno assessori part time perché devono fare questo lavoro a tempo pieno vediamo anche l'incipit di questa intervista io ci sono ha detto Stefano Aguzzi dopo che dopo che Luca Serfilippi della Lega insomma si è messo in disparte io ci sono per fare il candidato sindaco per il centrodestra bene risponde Giuseppe De Leo lei può fare quello che vuole ma io mi candido e non faccio un passo indietro ebbè sarà una bella competizione questa tra due esponenti amici che diventano avversari e parliamo anche del tartufo tartufo d'oro alla cucina di Oliassi chef che fa onore a tutte le marche ebbene è stato presente a Sant'Angelo in Vado dove si è svolta questa grande manifestazione dedicata al tartufo con tante tante persone la premiazione è avvenuta alla festa il prossimo weekend ci sarà un motoraduno che radunerà ancora tante tante persone appunto a questa manifestazione e vediamo ora la pagina di Ancona chiamano la polizia per avere aiuto minacciano gli agenti un arresto una coppia di cinquantenni via Marconi ha telefonato denunciando la presenza di due persone che erano in difficoltà all'arrivo della volante hanno inveito e l'uomo è accusato anche di lesioni insomma un fatto un po' controverso prima chiamano poi magari inveiscono contro i poliziotti una situazione tutta da chiarire e guardate questa foto aerea che è stata scattata in piazza Marconi in Ancona per l'evento il grande evento una folla oceanica quella che ha invaso la piazza per l'evento di chiusura della notte bianca con lo zoo del 105 tanta musica fino alle due di notte quando le luci si sono spente dopo una festa che si ricorderà per tanto tanto tempo una pagina intera dedicata appunto a questo evento e vediamo anche le notizie di sport le notizie di sport che vedono la Vispesaro vediamo un po' se riesco a ritrovarla eccola qua la Vispesaro che pareggia con l'Ancona un derby da impazzire in titola il resto del carlino Pierrori che spettacolo Ancona vis di tutto in più il risultato è 3 a 3 i gol non sono mancati però insomma la partita è stata molto molto vivace Dorici avanti con Spagnoli per l'1 e 2 Pesaresi Neri Capò e il pareggio di basso nel finale altra botta e risposta a Geimang fa centro ma Silla replica al 92 un botta e risposta insomma tra le due squadre che si è concluso con un pareggio un punto per uno vediamo anche i risultati delle altre squadre per quanto riguarda la Fermana deve fare ancora punti ma non sarà facile Brugnera ci crede e lancia la sfida al Perugia mentre per quanto riguarda il Re Canati siamo sempre in serie C pazza Re Canatese in casa del Rimini Longobardi Eurogold da 3 punti questo pazza dovrebbe essere un passa ma vedremo poi quello che succederà a Fano a Fano c'è cuore orgoglio da 3 punti bellissimo alla vittoria contro il Termoli anche se un po' risigata dobbiamo dire per 1-0 ma sono 3 punti che valgono oro perché perché il Fano Calcio ha perso quei 3 punti con il Fossombrone e per forza deve recuperare a tutti i costi Termoli KO in avvio in avvio di ripresa con il gol conteso da Urbinati e Borghi Padovani rientro dopo il Calvario e ora passiamo al calcio di serie D vediamo che a Fossombrone e così svanisce la vittoria al 96esimo Fucili gran partita peccato soltanto per le due ingenuità Fossombrone 2 United Riccione 2 si poteva fare una vittoria quindi c'è il rammarico comunque sempre un pareggio che un pareggio è sempre un risultato utile e questo per quanto riguarda lo sport ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico eccola qua l'apertura sulla pagina di Fano c'è un articolo piuttosto curioso ebbene una ditta che vuole utilizzare una delle immagini emblema della città di Fano nel suo marchio deve pagare forse qualcuno lo sa ma la maggioranza credo che non lo sappia ebbene è quello che è accaduto alla Copromo la quale ha chiesto al comune di inserire il logo della statua della fortuna di piazza nel suo marchio e il comune applica la legge purtroppo non può fare diversamente anche se facendo questo la ditta non fa altro che promozionale la nostra città ebbene 100 euro al mese ha ridotto ovviamente l'importo perché era consapevole del valore promozionale di questa iniziativa però la legge è quella e deve essere applicata ce ne fossero di ditte simili ha così commentato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli il quale si è reso conto appunto che inserire non so il nome adesso la statua della fortuna appartiene al comune perché fa parte della fontana però ci sono nomi emblematici come la moretta come Vitruvio come Lisippo che sono nomi famosi che danno lustro alla città di Fano e se vengono propagati è ancora un valore aggiuntivo in caso di emergenze ecco come ti devi comportare ci sono stati incontri della protezione civile di cartoceto con i bimbi delle primarie un insegnamento di valore didattico importante ma anche di valore civico perché se capita una disgrazia un terremoto un alluvione un incidente qualsiasi il ragazzo sa come deve comportarsi e non usa dei movimenti inconsueti che possono mettere a rischio la sua vita come quella degli altri e non basta l'inizio dei lavori del waterfront per rivoluzionare l'aspetto del lungomare di Sassonia così come annunciato dall'amministrazione comunale nell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi nella sala assemblee del marine center e che la giunta ha approvato un altro progetto un altro progetto importante oserei dire cioè il rifacimento dell'ingresso della passeggiata dell'isipo in Sassonia quello è un buco un buco che molti non trovano addirittura è un ingresso che si nasconde un po' tra la siepe del laboratorio di biologia marina e la ristrettezza pensate è largo un metro e mezzo l'ingresso quindi è veramente quasi invisibile ebbene l'amministrazione comunale ha commissionato un progetto lo ha redatto l'architetto Sergio Delrico per rendere più scenografico più ampio questo ingresso degno appunto della bellezza della passeggiata dell'isipo l'importo è di 225 mila euro è stato approvato il progetto esecutivo e tra breve si procederà anche a questi lavori quindi veramente la passeggiata di Sassonia sarà completamente rivoluzionata da qui alla prossima estate e poi vediamo che parte il fuori brodetto questa iniziativa della Confesercenti che promuove questo piatto tipico della tradizione marinara fanese coinvolgendo tanti ristoranti della provincia che inseriranno nei loro menù questo piatto lo serviranno ad un prezzo ad un prezzo calmierato diciamo così poi non è un prezzo stabilito perché poi ognuno farà il prezzo proprio però insomma sarà un prezzo abbordabile così lo possiamo definire a Mondolfo a Mondolfo si parla di lavoro e c'è il monico il monito del parroco leggi giuste e tutele saggi a Mondolfo perché si parla di questo tema perché a Mondolfo si è svolta la giornata organizzata dall'Anmil dove gli incidenti sul lavoro sono stati sull'onda della ribalta sulla cresta dell'onda così possiamo dire alla luce della ribalta giornata Anmil per dire basta alle morti sul lavoro si è svolta ieri mattina a Mondolfo l'iniziativa abbiamo visto anche nelle rassegne stampa precedenti della settimana scorsa quando l'Anmil ha reso noto i dati degli incidenti sul lavoro incidenti sempre troppi anche se diminuiscono di anno in anno e poi vediamo le altre notizie vediamo la pagina di Senigallia che oggi non c'è la cercavo però oggi abbiamo lo sport che occupa più spazio infatti vediamo che manca devo dire che questa mattina i giornali in edicola sono arrivati un po' tardi quindi non è che ho avuto tempo molto di verificare un po' le notizie insomma in maniera analitica come si fa generalmente tutti tutti i giorni capita qualche volta ed ora passiamo a Pesaro strade ma è così tante risorse per gli asfalti ma rattoppi da incubo il comune va avanti con il piano approvato ma fioccano le segnalazioni vi ricordate la letterina che ha scritto quel bambino per spingere il sindaco a rattoppare la strada che lui stesso percorre tutti i giorni per andare a scuola poi è arrivata una lettera di un anziano però insomma questo è un problema che si dilata in tutta la città e quindi si preme perché si realizzi un piano vasto di cura e di manutenzione delle strade Montecchio e Montelabate la ciclo pedonale si realizzerà è un progetto da un milione di euro per permettere la sicurezza della viabilità c'è stata la presentazione ufficiale di questa iniziativa qui vediamo il sindaco di Vallefoglia e vediamo anche il presidente della provincia Paolini Covid e influenza vaccini insieme si possono fare nello stesso momento per tutelarsi dalla influenza un male di stagione ma anche dal Covid non dimentichiamoci del Covid perché anche se la virulenza di questo virus si è attenuata è sempre presente e soprattutto gli anziani sono particolarmente a rischio per tutelare bimbi anziani e persone fragili le raccomandazioni dell'azienda sanitaria territoriale per la campagna che parte giovedì prossimo dove andare e come prenotare in questo articolo ci sono appunto queste notizie utili e anche il Corriere Adriatico evidenzia la notizia di cronaca dell'incendio all'hotel Nautilus allarme sul lungomare di Levante mattinata concitata l'hotel di Filippetti era stato chiuso da pochi giorni al termine della stagione e poi vediamo questo articolo che riguarda il dragone del Duomo il giudice chiede più tempo slittata a dicembre l'udienza per l'antiquario Ciaroni resta ancora sulle spine il noto antiquario il noto antiquario pesarese con le sue due gallerie a Milano perché è indagato qui lo vediamo nella fotografia è indagato dalla procura del capoluogo Lombardo per ricettazione ed esportazione illecita di beni culturali sarebbe stato rinvenuto scusate nei suoi depositi un dragone che faceva parte delle decorazioni del Duomo di Milano lui dice di non sapere la provenienza di questo reperto però insomma ora deve dimostrarlo nei confronti della giustizia e purtroppo occorre ancora stare sulle spine perché il giudice ha chiesto più tempo vediamo un'ultima notizia Urbino il tartufo d'oro allo chef Uliassi abbiamo visto anche sulle Corriere la premiazione di questo chef di alta qualità sul palco racconta il suo successo dalla pizzeria da Mauro alle stelle Michelin anche lui omaggia l'unicità del valore del tubero un valore veramente di grande di grande interesse economico e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre un appuntamento alle ore 7 di domani e per le notizie del giorno vi invito a seguire il TG di Fano TV Occhio alla Notizia questa sera alle ore 20 e 30 grazie per l'ascolto a risentirci a rispettare a rispettare che